Posso tirare ancora eh? Ah si eh? Guarda eh. Ma roba da morte. Dopo si sfoca. Però guarda che roba. È bellissima. Guarda eh. Guarda la lunghezza che è. Uh. Adesso è bello nitido. Guarda che roba. Mamma mia ragazza. È una telecamera stupenda questa qui. Ma quanto gli hai dato a quella telecamera? 500. 600. Ma niente. Costa 700. Guarda. Te riesci a vedere adesso l'enzuolo? No. No. Grazie.